Un'idea che è il caso di dirlo nasce dal cuore. Il defibrillatore installato all'interno del centro commerciale Mongolfiera Grand Shopping di Molfetta in collaborazione con l'inservizio emergenza radio locale rappresenta un presidio di sicurezza importante per tutti i clienti e gli operatori della struttura che potranno essere soccorsi immediatamente in caso di emergenze di tipo cardiaco. Si tratta innanzitutto di un progetto portato avanti con il SER di Molfetta che ringrazio innanzitutto. Dopodiché era importante avere un defibrillatore nel centro commerciale più grande in Puglia e quindi era importante dare un servizio ai clienti del nostro centro commerciale quindi in caso di necessità avere a disposizione comunque un defibrillatore che può salvare la vita. Soddisfatto anche il sindaco Paolo Natalicchio che ha inaugurato l'angolo dedicato al dispositivo. Ad azionare il defibrillatore in caso di necessità sarà lo stesso personale del Grand Shopping Mongolfiera formato direttamente dagli operatori del SER Molfetta. Abbiamo organizzato un mini corso di primo soccorso con la nostra equipe medica del SER Molfetta e in più un corso di BLSD organizzato da istruttori IRC a molti operatori della galleria. Grazie a tutti! Io! Autore dei sorrisi